I 5 Stelle stanno facendo allarmismo sulla legalità, presentando mozioni su cose che già stiamo facendo e non accettiamo lezioni dall'opposizione. Hanno avuto 5 anni di tempo per agire. A togliersi qualche sassolino dalla scarpa, il sindaco di Fano Massimo Seri, che oltre a ricordare le opere portate a termine da un anno a questa parte, si è rimproverato di aver comunicato troppo poco con la cittadinanza per informarla sulle azioni, programmi e progetti portati avanti dall'amministrazione comunale. È chiaro che l'opposizione si alza la mattina e cerca sempre un argomento per criticare chi amministra. Questo è il gioco che c'è nella politica e non mi stupisce. Però mi aspetterei qualcosa di più perché onestamente da 5 Stelle non vedo altro, sempre questo atteggiamento dello scandalismo, del denigrare sempre chi ha delle responsabilità o criticare quello che si fa puntualmente. Mi piacerebbe invece un confronto più sulle questioni vere. Per quanto riguarda il resto dell'opposizione, da quando si sono insediati non sento altro che dire che non fanno niente, sono al servizio dei pesaresi. Allora intanto vorrei dire che hanno avuto 5 anni precedenza per fare delle cose e non le hanno fatte, quindi non accetto lezioni da loro. Quando ci si insedia, ha proseguito, c'è la necessità di impostare un lavoro e noi in particolare dagli ultimi due mesi stiamo annunciando un intervento dopo l'altro dal nuovo impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo, al recupero delle risorse per la strada delle barche, alla sistemazione del rio Crinaccio a Ponte Sasso. Siamo il primo comune che porterà gli scolmatori a largo, ma non è finita qui, perché a dicembre si farà un appalto da quasi 5 milioni di euro per la difesa della costa. Per quanto riguarda invece la vicenda della comunicazione illecita in campagna elettorale, abbiamo imparato la lezione, hanno commentato, ma si parla di piccole cose. C'è un richiamo su sei comunicati stampa che potevano essere differiti, di cui uno parlava per le celebrazioni del ricordo della morte di Falcone, quindi veramente siamo sulle piccole cose. E la sentenza parla anche del comportamento corretto del sindaco, perché ci sono tre frasi che parlano anche di questo. Sulla fusione Aset invece avanti tutta, assicura il primo cittadino, mercoledì prossimo la Giunta dovrà deliberare la scelta dell'advisor, che a sua volta avrà due mesi di tempo per redigere il piano industriale e dare suggerimenti sulla nuova struttura societaria. Dopo la manifestazione di interesse pubblicata da Aset Holding, hanno risposto quattro ditte a livello nazionale. Le candidature verranno poi valutate da una commissione composta da tre persone, che verrà nominata sempre da Aset Holding. Tutto questo, così come l'esame delle proposte e la scelta dell'azienda vincente, dovrà essere portato a termine entro il prossimo 22 luglio. Han giocato spesso, anche questo il sindaco non la vuol fare. E merite bugie. Noi la faremo, noi non siamo succubi a nessuno, noi facciamo le nostre scelte. Nonostante tutto stiamo ottenendo dei risultati che la gente vedrà concretamente, perché poi le risposte sono con le opere che si fanno.